Contessa, venite, vi faccio vedere. Ho dei gioielli molto particolari. Avvocato, osservate. Quanto chiedete per questi gioielli? Trenta lire e ve li portate a casa. Io vedrei questi come primo premio, l'anello come secondo e il bracciale per terzo. Siete d'accordo? Ha ognuno il suo compito, Contessa. Io l'idea, voi la scelta. E per tutti gli altri rosari. Sarebbero trenta lire. Bene, facciamo venticinque lire per tutto. Ma mi vuole te rovinare. È una collana vera. Io vedo oggetti autentici. Questo è argento napoletano. Anche Napoleone è riuscito a rubarlo. Calmatevi, buon uomo. Ma i suoi gioielli sono solo fondi di bicchiere. Prendetevi questi soldi e fate anche un'opera buona.